Nel weekend dall'11 al 26 giugno, sei percorsi urbani tra teatro e arte contemporanea inseriti nelle iniziative di tutta la mia città condurranno gli spettatori dal centro cittadino fino a Rivoli, partenza in bus privato dalla stazione di Porta Susa. È un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli e Stalker Teatro è da tempo che lavora nella interazione fra il teatro di innovazione e l'arte contemporanea. In questo caso siamo partiti con una serie di workshop aperte a tutti i cittadini interessati che si sono svolte nei mesi scorsi e attualmente stiamo preparando lo spettacolo che presenteremo durante i percorsi. I percorsi partiranno alle ore 18 da Porta Susa, tutti i sabati e le domeniche delle ultime tre weekend di giugno, da Porta Susa alle ore 18 per poi arrivare al Castello di Rivoli, lì verranno guidati gli spettatori ad una visita guidata a vedere le installazioni a cui noi abbiamo fatto riferimento per la creazione di performance. E quindi gli spettatori dopo aver visto la mostra al Castello di Rivoli sempre saliranno nuovamente sui pulmi e verranno condotti alle vallette che è un'altra situazione territoriale che definisce la dimensione metropolitana della città di Torino. Alle vallette ci sono le officine Caos, il teatro gestito da Stalker Teatro, lì verrà appunto offerto un rinfresco e poi quindi si potrà assistere alla visione dello spettacolo. Come si può partecipare? Basta trovarsi all'uscita della metropolitana della stazione Susa o c'è invece una prenotazione? Poi viene direttamente all'efficine Caos per l'acquisto del biglietto, sono 20 euro intero, 15 euro ridotto oppure tramite online e tutte le indicazioni sono sul nostro sito che è www.stalkertheatro.net L'idea di questi percorsi artistici è in sostanza che gli stessi partecipanti ai workshop poi producono delle creazioni e le rendono visibili ad altri. Esatto, è una risposta attiva da parte dello spettatore, la creazione non è soltanto da fruire ma si può anche partecipare, può dare stimoli ulteriori per creazioni ulteriori. Infatti lo spettacolo che presentiamo è titolato Reaction, è una reazione creativa del stesso pubblico nei confronti dell'opera e dell'artista. Abbiamo visto col direttore artistico, qui le performance che vengono esibite sono frutto della creazione di workshop, quindi è un'innovazione anche. Sì, sicuramente, ma innovazione è in senso dell'accademismo tradizionale, ma è una nostra pratica corrente e è anche una nostra poetica. Lei cosa porterà? Io porterò delle performance che sono state create in rapporto con le opere del Castello di Rivoli, poi dalle impressioni personali dei vari partecipanti sono nati dei giochi, delle azioni e io sarò insieme a loro a sviluppare questo lavoro. Quadri quindi, si parla di quadri, pitture? Sono quadri teatrali, sì.